Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Oggi non sapevo che colore mettere no? E allora ho detto, boh, andiamo sullo psichedelico Oggi torniamo a parlare di aggiornamento ragazzi, ci sono novità Vi posso mostrare oggi il gameplay delle nuove skin e non solo della nuova modalità Ruba Regali Come sempre vi ricordo che se non sapete neanche di che cosa sto parlando è perché non avete visto il video di ieri Se non avete visto il video di ieri cosa fate ancora qui? Chiudete questo video, andate a vedere l'altro, poi tornate su questo video Se invece sapete di che cosa sto parlando allora cominciamo Le premesse oramai sono doverose, lo sapete meglio di me Per mandare avanti questa baracca chiamata il canale di ferre Potete inserire in fondo allo shop il codice ferre appunto Mettere un bel pollice in su e ovviamente se volete restare aggiornati su tutte le novità Che riguardano l'update, quindi sui prossimi video, che ci saranno, se ci saranno Beh, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche Detto questo, partiamo con il video E per fare ciò, togliamo il tablet Perché il gameplay è già registrato, lo andiamo a commentare insieme Così ci possiamo soffermare anche meglio sui dettagli Ragazzi, allora io ve lo dico Adesso dovrò partire e andare a ruota Perché c'è un bordello di roba da mostrare Sono tre skin Le vediamo bene da vicino Le vediamo in amichevole Le vediamo in partita Poi appunto dovremo anche discutere da modalità Quindi partiamo bomba 3, 2, 1, vai Ok, cominciamo da poco Ovviamente le vedremo sempre nello stesso ordine di ieri Poco ragazzi Forse rende ancora meglio Visto così proprio in game È molto carino A me piace un sacco il fatto che sia scalzo Cioè a me piace avere il brawler scalzista Ragazzi Bellissima anche la scopa Ma vediamo appunto come la utilizza Allora io onestamente Così a primo impatto Non vi so dire Se c'è una modifica Anche sullo stile dei colpi Bisognerebbe confrontarlo con l'altro Però comunque sia Si notano le note Si notano le note E anche la ulti Che dovrei lanciare tra poco Ecco Mostra comunque sia anche le note Ovviamente di più Perché ha più raggio Di coloro verde Allora Ovviamente Poco è un brawler da mischia Quindi Diciamo il bello è vederlo Ecco lì Su tutti i robottini Colpisce qualsiasi cosa Non ha rifaggressivo Lì alla star power curativa Quindi non posso hittarli anche con Il Con il rifaggressivo Però Appunto Vabbè C'ha C'ha la bandana Non so se vedete Quello è un elemento molto carino Che quando Cammina Lo segue Quindi si muoverà A seconda di come muovete Il Il vostro personaggio E Ragazzi Io direi che qua Mi metto d'accordo con gli altri E un video Con tutte le skin pirata Bisogna farlo Allora adesso andiamo A vedere appunto Smetto un attimino Di commentare Proprio il discorso Di poco Ma andiamo a vedere La modalità Ok Ovviamente Poco rimane sottofondo Come potete vedere Quando comincia Ruba regali C'è subito lo spawn Dei regalini Quando il Paco viene agganciato Appunto Si può lanciare Come vedete Con Il colpo normale E lanciare Però Ha sempre Ha sempre un raggio Molto Molto ridotto Con la super Invece Si riesce A mandare Più lontano Adesso vi faccio notare Un altro elemento Allora Prima di tutto Ci sono degli indicatori Che indicano appunto Il regalo Sia quello rosso Sia quello blu Dove si trova E poi ragazzi Ci sta Il Il momento in cui Si fa il punto Che a differenza Della brawl ball Non interrompe la partita Cioè quando si fa punto La partita Appunto Continua Ad andare Adesso Qua è finita Probabilmente Continuerò a mostrarvi Anche i dettagli Dopo perché Non ho detto alcune cose Passiamo a colto Vedete che devo Andare a ruota Ragazzi perché c'è un bordello Di roba Bellissima L'animazione Con cui entra Bellissimi vestiti Bellissimi dettagli Dei teschietti Sugli stivali Ma il top Ragazzi Che vediamo anche in game Sono le pistole Notare anche il logo Sulla bandana È un logo pirata Che se non sbaglio C'è anche su Tick Tick base E allora Guardate i colpi Non so se vedete Sono proprio delle palline E se ci pensate Le pistole pirate Comunque le pistole Un pochettino vecchie Non avevano E i proiettili Cioè i proiettili Come li Li conosciamo noi No? Un po' A supposta Ma hanno proprio Delle palline E li sono disegnate Molto bene Si distinguono Molto bene Lasciano anche un pochettino In scia La ulti Si commenta da sola Ragazzi Sembra che spara Dei meteoriti Anche qui Abbiamo La bandana Che vedete Il ciuffo della bandana Il nodo della bandana Si muove Muovendo il personaggio E bellissimo Il fatto che sfiamma La pistola Quando si usa la ulti Cioè secondo me ragazzi Questa è proprio la skin Più curata In assoluto Cioè Anche Capitan Carl Che vediamo troppo Che bellissimo Ma questa Mi piace veramente Un sacco È la mia preferita In assoluto Batte anche le skin Di nuovi brawler Allora Tra l'altro Lo so se notate Ci sta Nella nuova mappa Comunque Un po' di roba natalizia All'inizio Quindi comunque Un po' di Di tema natalizio L'han tenuto Cioè ragazzi Colte veramente Si commenta Veramente da solo È qualcosa È qualcosa di Di mistico Allora qua Praticamente si gioca Con Mortis Mortis anche In rubaregali Un po' come in Brawl Ball Io ce lo vedo parecchio Poi vedremo se effettivamente Quando ci giocheremo In live sarà così Adesso C'è un enesimo dettaglio Che volevo farvi vedere Anche prima Non sono riuscito Ancora a farvelo vedere Vediamo se mi riesco A concentrare Quando prendo il regalo Ragazzi fateci caso Se io prendo il regalo E lo butto per terra Parte una barra Come se fosse la vita Del regalo Che pian piano Si va a scaricare Se Si scarica In teoria Il regalo dovrebbe tornare In spawn Quindi dovrebbe tornare A posto Non è che possiamo Prendere il regalo Buttarlo via Lasciarlo lì Magari un'ora E chillarci tutti i nemici No Ecco vedete Vedete la barra Cioè la barra ragazzi Non bisogna farla svuotare Assolutamente Comunque adesso C'è una situazione di parità Bellissimo Il raggio Della Della torretta D'autobit Qua si vede proprio bene È Molto più grande Del raggio In cui spawn al regalo Quindi si potrebbe coprire Tranquillamente tutto E passiamo a Carl La prima cosa che si nota È come vi dicevo ieri Che Carl Fluttua Fluttua Literalmente ragazzi Vedete che la barca Sta fluttuando Non Non toccherà Il terreno Anche se in realtà Ci sta entrando dentro Un po' come se Si navigasse nel terreno Poi bellissimo il fatto che Questa è forse l'unica skin Di Carl Che mostra le sue gambe Perché Carl Effettivamente qua è in piedi E poi Adesso lo vediamo in game Oltre ai dettagli Che abbiamo già visto ieri Che comunque Restano anche nella skin Quando la si utilizza Perché Il cappello c'è La bandana Che copre Gli occhi che escono fuori C'è L'ancora è curatissima Però quello che mi piace Più ragazzi Che vi farei notare Sono sempre i pesci Quando lanciate l'ancora Rilascia dei pesci per terra E delle stelle marine Ragazzi E' proprio fantastico Cioè A me piace Mi piace molto E poi Se notate bene Quando si muove Ha come Anche se non c'è dell'acqua Perché ci sta un momento Sulla terra Ha come dell'acquetta Sotto di sé E quando fa la ulti Spruzza Schizza quest'acqua Un pochettino Dopo tutto Cioè E' come se effettivamente Avesse dell'acqua sotto Ma non ce l'ha Quindi Si può dire Come dicevo io Prima che flutto Vabbè Qua di nuovo ragazzi Nella mischia Carla Inutile dire Che cosa vi combina Bellissimo Comunque A me anche questa skin Piace un sacco Raga Ma Non lo so se batte colta E ditemelo voi In un commento Ma Ecco Ditemi nei commenti Qual è la vostra preferita Però onestamente Ragazzi For me La migliore E colta Anche per come fa l'ingresso Quando lo è selezionato E' troppo bello Ok Qua ragazzi Abbiamo Una partita In Jam grab Ok Giusto per cambiare un pochettino Anche per vedere Questa nuova ambientazione In un'altra modalità Non per forza In rubro regali Poi comunque Vi fate anche un'idea Di come sono le proporzioni Dell'area In cui spavano i regali Insomma Credo che Permetta Cioè Si veda molto bene Qua come è effettivamente Estrutturato tutto Quindi E Vabbè Siamo contro un Frank Vedete anche un pochettino Come si comporta Il brawler Ma quello Già lo sapete Più che altro E io Mi continuo a soffermare Sull'ancora Ragazzi È bellissimo Il fatto che Rilascia i pesci per terra A me sta cosa Non so perché Mi ha intrigato Da matti Tra l'altro Carl È uno dei brawler Che con Quest'ultima season Ho pushato di più E ho anche imparato A utilizzare un pochettino Di più Io Carl Lo usavo veramente Malissimo E quindi Questa skin Capita fagiolo Perché penso proprio Che la andrò a utilizzare Tanto 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 Insomma Raga Qua Sulla modalità Non vi sto dire niente Perché Conoscete già tutto Gli elementi Che non ho evidenzato Nell'ultimo video Li vedete da voi Ci sono delle bombe Ci sono appunto I pacchi regalo Ragazzi Guardate Nel pacchi regalo C'è una testa di Rico Un mini orso di Nita E una stella Casissimo Poi vedete C'è un secchio Pleno di pesci Ci stanno delle bombette Appunto per terra Ci sono un po' Di elementi carini E In teoria Si vedono anche I tentacoli del Kraken Anche se forse Si vedono meglio Nei video di ieri Quelli Insomma Veramente Ricchissimo di elementi L'ambientazione È molto carina E la mappa A me piace Cioè la modalità A me piace un sacco Raga Le skin sono carine Però adesso Bisogna vedere poi Effettivamente Quando sono in game Come Cosa ne pensate voi Ragazzi Adesso si dovrebbe andare A concludere La partitozza Ho Piliato le ultime gemme Se adesso Entro in base In teoria Togliamo aver finito Ragazzi Ovviamente Se volete venire A farvi un saluto O banalmente A chiedermi qualcosa Io sono in streaming Tutti i giorni Ormai Dalle 5 Alle 8 E dalle 9 Alle Alle Cioè Oltranza Su Twitch Il link è sempre in descrizione Quindi followatemi Anche su Twitch E insomma Questo è quanto Un saluto a tutti ragazzi E ciao